Bene, allora ci troviamo qui nell'area davanti ad uno dei cantieri, dico uno dei cantieri perché ormai sono diversi i cantieri aperti a Bergato in queste settimane, nei scorsi mesi e altre se ne aggiungeranno nelle prossime. Qui siamo di fronte all'area del cantiere interessata dai lavori per la ristrutturazione e per la realizzazione del centro di documentazione sulla linea gotica, un progetto che riguarda Bergato ma riguarda più in generale l'insieme dei comuni dell'Appennino Bolognese. È un progetto finanziato da risorse frutto di un accordo di programma che fu stipolato a suo tempo dal Governo nazionale, dalla Regione Emilia Romagna e dalla città metropolitana, un contributo rilevante di 500 mila euro che ci consentirà di realizzare un centro innovativo anche per quello che riguarda le attività che si svolgeranno. Un centro che punterà sull'aspetto emozionale, multimediale e quindi che da questo punto di vista possa rappresentare davvero un elemento di interesse per un turismo anche di carattere culturale rivolto all'interesse soprattutto di carattere storico che può riguardare ormai un'ampia fetta di turisti non solo dell'Emilia Romagna ma anche a livello nazionale e a livello anche internazionale. Collegato a questo progetto ci sono poi alcuni sentieri della linea gotica che ripercorrono i percorsi che sono stati interessati durante il conflitto mondiale dalle fortificazioni e dai combattimenti che qui si sono svolti. Il progetto è un progetto quindi molto importante, molto significativo che per il momento può avvalersi di questo importantissimo contributo. Al tempo stesso abbiamo in previsione nel prossimo mandato di completare questo progetto che interesserà anche la parte più caratteristica forse da un punto di vista dell'orcheologia industriale, la cosiddetta ghiacciaia che è qui a fianco e l'area sovrastante, l'area dove venivano realizzate una parte importante delle attività legate appunto alla produzione dei mattoni che era una delle attività principali che appunto venivano svolte nell'ambito di questo territorio. L'area si presta ad un utilizzo a parco molto fruibile, molto importante, necessiterà naturalmente di una serie di interventi ma credo che da questo punto di vista si potrà avere una realtà particolarmente significativa anche di recupero dal punto di vista dell'archeologia industriale come è quello appunto nell'area delle fortificazioni. Grazie a tutti!